Buongiorno ragazzi, non sono sparito, sto semplicemente preparando un po' di video per avere poi una continuità nella pubblicazione e quindi mi sto prendendo avanti. Ne ho già registrato qualcuno, ne sto già preparando qualcuno, ci sarà la novità della versione inglese, quindi con o sottotitoli oppure io che provo a parlare in inglese. La prima settimana di marzo la Sea Warrior uscirà dal capannone, verranno fatti quei due o tre lavori, lucidatura, motori, tagliandino regolare, normale e ci sarà una grande novità quest'anno sulla Sea Warrior e poi la seconda settimana andrà in acqua. Quindi registreremo tante tante cose nuove, tanti video sull'ormeggio, ho già una lista, un piano di cose da fare per divertirvi al meglio. Nel prossimo short risponderò a qualche domanda che mi avete fatto che magari può essere utile a tutti.